Al piano di sopra l'aspettano decine di imprenditori. Vengono qui da tutta Italia per cercare un aiuto. Valli ha creato un'associazione che in pochissimo tempo è diventata punto di riferimento. Qui si ritrova l'Italia che soffoca, strozzata dalle banche e dai controlli. Nella disperazione più assoluta abbiamo iniziato tutta la procedura, poi ci siamo poggiati a Sante a fare questa perizia dettagliatissima di tutte le cartelle e siamo arrivati a una denuncia. Volevo l'archiviazione, il fatto, la difesa. Questa è una delle due banche che abbiamo denunciato per usura. Abbiamo già verificato che il mutuo è viziato da usura ed è un mutuo nullo perché è usato a coprire un'esposizione. Abbiamo verificato che c'è un tasso elevatissimo, abbiamo depositato tutte le querele immaginabili possibili, però il pubblico ministero scrive che non c'è reatto. Io ho speso tutto quello che avevo. L'hanno segnalato in centrale rischi? In centrale rischi? Devastando. Tutto ora, nel senso che io se devo comprarmi una lavastoviglia devo pagare contanti. Anche se gestisco bene la parte ordinare della vita, fisicamente l'ho risentito più del dovuto, secondo me. Sì, hai il corpo devastato. Sì, sì. Cos'è che fai tu? Io faccio stampati lavori tipografici. Hai dei dipendenti? Ho mia moglie coadjuvante, quindi è l'unica attività che ci permette di… Quindi vivete con quello? Con questo. Visto che c'era notocismo, c'era usura e di conseguenza ho fatto fare una… Ho fatto… Da questa perizia abbiamo fatto una querela. Da questa querela è stata in un primo tempo archiviata, l'abbiamo ripresentata… Con degli elementi nuovi, ovviamente. Con degli elementi nuovi ed è stata proposta l'archiviazione di nuovo. Adesso io a questo punto non so più come muovermi. Adesso abbiamo due strade da percorrere. Depositare nuovamente con altri elementi nuovi e io lo farei, mai arrendersi. In più depositare la querela in altre procure, specificando il motivo per il quale la depositiamo in altre procure. Il nostro messaggio è noi non ci arrendiamo, noi non ci fermiamo. Voi archiviate, noi quereliamo di nuovo. E questo è il nostro punto di forza. Lo è stato fino ad oggi sia con Equitalia che con le banche. Loro archiviano, noi depositiamo nuovamente. Vediamo alla fine chi avrà la meglio. Sei d'accordo su questo? Certamente, certamente.